Ciao a tutti, oggi andiamo a presentare una nuova ricetta, una torta salata o pierna. La particolarità di questa preparazione è che io la faccio con un impasto appunto diverso, molto molto particolare. Al posto dell'acqua uso il vino bianco, quindi andrò a usare della farina di tipo 1, del sale, dell'olio e del vino bianco, agnioccoli. Quindi la prima cosa da fare è stendere la farina sul tavolo, mettere il sale. Questo è un chilo di farina, quindi l'impasto per due torte salate o terne. Mettiamo 10 cucchiai d'olio. E poi andiamo piano piano ad impastare, aggiungendo il vino. Bene, l'impasto è pronto. Quando ho raggiunto questa consistenza, possiamo metterlo da parte e farlo riposare e andiamo a preparare il ripieno. A presto.